Parliamo degli ETF tematici e cerchiamo di capire una volta per tutte perché sono strumenti da evitare. Ben trovati, io sono Giacomo e in questa puntata di Segreti Bancari Live vi parlerò degli ETF tematici dandovi delle indicazioni operative su che cosa fare e vi anticipo che il più delle volte sono da evitare ma seguitemi fino in fondo e vi spiegherò il perché. Nel frattempo vi ricordo, se volete bene questo canale, volete farlo crescere, di mettere il mi piace e di iscrivervi e di fare lo stesso se seguite naturalmente la versione audio a livello podcast. E poi venite a trovarci sul sito segretibancari.com che è il nostro sponsor per tutte le persone che vogliono approfondire i temi dell'investimento consapevole e capire come e dove investire. Ma tuffiamoci come sempre nell'argomento di quest'oggi e cerchiamo di capire perché gli ETF tematici hanno tutte le premesse, le caratteristiche per essere una sola. Anzitutto l'ETF viene venduto nel cosiddetto momento di massimo hype, cioè quando l'interesse per il sottostante è i massimi. Questo non deve stupirci, è una pratica che i megli ETF hanno copiato molto bene dal mondo dei fondi e serve proprio a sfruttare il massimo eccitamento, la massima tensione su un determinato settore merceologico. Il problema è che l'ETF a volte sfrutta questo momento ma non riesce in tempi ragionevolmente brevi a ottenere un capitale importante e la conseguenza è che poi viene delistato. Quindi il primo aspetto che dobbiamo tenere presente quando si tratta di ETF tematici è il rischio di delisting. Ma vediamo alcuni esempi di ETF tematici molto specifici che sono stati quotati. Uno è il VanEck sulle terre rare, cui ho dedicato anche un articolo sul blog di Segreti Bancari che vi linko in descrizione. Poi ne abbiamo un altro dedicato alle spedizioni, quindi tutto ciò che è online, lo shipping, nella convinzione che la pandemia ha aumentato l'e-commerce e di conseguenza ha portato avanti anche il discorso dei corrieri, delle consegne a domicilio e così via, e poi l'uranio. Questi sono dei ETF che sono stati lanciati in un momento particolarmente favorevole per il sottostante ma che ahimè hanno avuto uno sgonfiamento, perché questo è un po' ciò che succede. L'ETF viene lanciato quando è il tema sottostante sulla cresta dell'onda e di conseguenza poi tende a sgonfiarsi. Per cui il primo consiglio fuori sacco che voglio darvi, fuori sacco perché non era originariamente previsto ma mi è venuto in mente adesso, è quello di aspettare un attimo, quindi se vi interessa un determinato strumento, ipotesi le terre rare, sapete che è stato lanciato, non buttatevi a comperarlo ma magari aspettate un po'. Non è detto che succeda ma sovente accade, l'ETF si sgonfia e poi dopo pian piano torna a salire e dopo naturalmente lo smaltimento dell'eccesso iniziale, beh, quello forse è il momento migliore per andarlo a comprare. Ma cerchiamo di capire anche quali siano i rischi degli ETF tematici, oltre a quello che abbiamo già visto del delisting. Beh, un rischio è sicuramente la diversificazione apparente, perché molti strumenti in realtà si sovrappongono fra loro. Voi ad esempio comprate un ETF che investe sull'idrogeno, su azioni che operano nel settore dell'idrogeno e comprate l'ETF Clean Energy e magari vedete che in realtà i titoli sono gli stessi. Quindi a fronte di quella che voi pensate essere una diversificazione efficace, perché in definitiva avete due strumenti diversi, in realtà avete lo stesso sottostante. L'altro rischio che riguarda questi strumenti sta nel fatto che quasi tutti sono dei sotto indici del MC Award, quindi tradotto in parole povere, hanno un forte peso delle azioni USA. Normalmente abbiamo il 60% di azioni americane come sottostante, questo ovviamente va a sovrappesare l'America, di per sé non è grave, l'importante è che sia voluto. Allora qual è l'uso che possiamo fare degli ETF tematici, oltre appunto a fare attenzione quando li compriamo e possibilmente evitarne l'acquisto nelle fasi immediatamente successive al lancio? Beh, anzitutto inseriamoli in una strategia di portafoglio corretta. Ci sono tanti approcci, uno molto in moda che noi utilizziamo, perché per fortuna non è una moda passeggera ma funziona, è l'approccio core satellite. Questo cosa significa? Beh, semplicemente voi avete un portafoglio di investimenti, avete degli ETF diversificati a livello geografico che fanno la parte dura del portafoglio, quella che tenete ferma e magari ribilanciate periodicamente, e a lato andate a inserire degli ETF satellite, cioè degli ETF specifici per un peso limitato, diciamo non superiore al 10%, che in qualche modo vi permettono in un certo contesto di dare più enfasi a quel settore, per cui io ho ipotesi l'ETF sull'Europa e magari ci aggiungo un ETF specializzato sull'e-commerce, va bene, ma deve essere un di cui. Un portafoglio composto solo da ETF tematici naturalmente non ha senso. Seconda cosa, fate attenzione a quello che io chiamo il work bias, ovvero distorsione da lavoro. Molte persone tendono, in maniera errata, a sovrappesare un investimento nel settore in cui lavorano, perché pensano di conoscerlo meglio, ma se io lavoro nel settore, per esempio, dei videogiochi, non ha senso che io vada a sovrappesare l'ETF Vanek sul videogaming, perché in questo modo ho un doppio rischio. Se l'industria va male, io posso perdere il lavoro, posso perdere la retribuzione variabile agganciata a profitti aziendali e al tempo stesso perdo anche sul capitale. E poi una cosa interessante può essere fare un PAC, ma anche qua attenzione, quando fate il PAC partite dal peso che a regime vorrete dare a quell'ETF. Supponiamo che voi vogliate che l'ETF sulle terre rare, sull'idrogeno, pesino il 10% del capitale. Io stabilisco l'importo, supponiamo 15.000 euro, e a ritroso vado a calcolare la rata. Questo vi permette di evitare di fare dei PAC sovradimensionati, perché voi magari fate un PAC che dura 15 anni, al termine dei quali il vostro ETF sulle terre rare ha preso metà del capitale, perché avete versato così tanto per così tanto tempo che ovviamente siete sovrasposti su un settore che invece è meglio in qualche modo contenere. E poi, come vi ho detto prima, andare contrarian. Andare contrarian vuol dire non comprare l'ETF settoriale quando questo è di moda, quando viene lanciato, ma aspettare lo sboom. Un esempio classico sono state le energie pulite, con l'ETF iShare su Clean Energy, che è partito, ha avuto un buon andamento, poi è svanito l'interesse per le energie pulite, energie alternative, l'ETF è sceso anche abbastanza rapidamente. Bene, quando c'è stato questo ribasso, l'investitore consapevole avrebbe dovuto valutare, non dico comprare, ma valutare di investire su quell'ETF. Questo è quello che volevo dirvi, ma come sempre io vi ringrazio per i commenti e vi invito a scrivere i commenti, perché è un modo anche per continuare in maniera interattiva la discussione con voi e se avete delle argomenti che volete che vengano affrontati nell'ambito del nostro show di venerdì, Segreti Bancari Live, fatemelo sapere, lo scrivete nei commenti o scrivete a info chiocciola segretibancari.com per chi magari sta correndo e mi sta ascoltando in cuffie. Per tutti gli altri, buon fine settimana e noi ci vediamo o ci sentiamo vendredì prossimo. Buon weekend! Grazie!